Enel Energia ha finalmente un nuovo presidio a Grosseto, in via Svizzera, è stato inaugurato il nuovo punto Enel Partner, punto di riferimento per tutti i cittadini del territorio. Al taglio del nastro sono intervenuti l'assessore alle politiche produttive Riccardo Giranneschi, il responsabile di area mercato toscana di Enel Marcello Cavicchioli, il responsabile punti Enel Partner della Toscana Carlo Pastorelli e il referente Enel Energia del territorio Paolo Calabresi Enel in Toscana, abbiamo raggiunto molti territori, quasi tutti, i nostri clienti devono avere la possibilità di girarsi e trovare sempre un nostro negozio. Attualmente siamo a 59, questo è il 59esimo negozio, qui in provincia di Grosseto siamo a 5. Grosseto è una realtà molto importante e di conseguenza c'era la necessità di triplicare la nostra presenza, perciò dopo il punto Enel di via Bonghi, il negozio di via Birmania, oggi siamo in una delle zone più importanti di Grosseto, tanti clienti, tanta gente che passa, per noi è importante farsi vedere e dare la possibilità a ogni cliente di usufruire delle nostre offerte. Siamo arrivati a 59 ma non abbiamo ancora finito, ci allargheremo in altre città, in altri contesti. Un punto di riferimento per il cittadino grossetano che vuole avere un contatto diretto per tutto ciò a quello che riguarda l'energia elettrica e il gas, nonché le energie rinnovabili, che è un nostro punto di sviluppo futuro. Tutto parte dall'analisi dei consumi energetici, oggi risparmiare per le famiglie è la cosa più importante, quindi partiamo da un'analisi dei consumi energetici per poi sviluppare sia delle tariffe convenienti che la progettazione di magari impianti per il risparmio energetico e che quindi facilitano e aiutano a risparmiare e a tagliare i costi delle bollette. Enel X approfondirà nei prossimi anni tutto ciò che abbraccia il risparmio energetico e in particolar modo la mobilità elettrica, un nostro filone che proveremo a seguire e a sviluppare in maniera importante per rendere la città sempre più green.